L'attrice, ripensando alla sua crisi con Alex, scoppia in lacrime confortata da Manila. Entrare nella casa dove Alex ha vissuto per molti mesi e che ha messo in crisi il suo matrimonio non è stato. Facile per Delia che, da quando ha varcato la Porta Rossa, non fa che parlare di lui e dei loro problemi. Anche oggi l'attrice trova conforto in Manila, a cui spiega il suo comportamento e le sue reazioni passate, causate da una forte sofferenza. C'è un dolore interno che devo ancora superare e quello mi porta ad essere molto dura. Manila cerca in tutti i modi di rassicurare Delia sui sentimenti di Alex e, avendo osservato la sua conoscenza, consolei da molto vicino. La Miss è sicura che i sentimenti dell'attore per Delia non siano mai svaniti. Quello che Alex aveva nel cuore non è mai cambiato. Io l'ho visto nei suoi occhi. Nonostante tutto l'ex Miss Italia non biasima Delia e comprende appieno le sue reazioni. Era stata proprio lei. Infatti, ad invitare Alex e Soleil a chiarire il loro rapporto e a cambiare atteggiamento prima di superare un certo confine. Lui ti deve aiutare, ma tu non allontanarlo, dice Manila, consigliandole di non mandare all'aria il rapporto con Alex. Arriverà anche il momento di parlare con Soleil, commenta Delia. Sicura che un dialogo pacifico con l'influencer possa aiutare entrambe a conoscersi e a capire i rispettivi. Punti di vista. Anche Manila è fiduciosa che le cose andranno per il meglio. Posso metterci la mano sul fuoco tu e Soleil andrete d'accordo. Ripensando ai difficili momenti che ha dovuto attraversare fuori dalla casa. Osservando Alex coltivare la sua relazione con Soleil, Delia scoppia in lacrime. Ho sempre coperto tantissimi dolori. Volevo sempre apparire come una donna che in realtà non ero per non farmi vedere fragile, dice tra le lacrime. Manila dimostra di saper mettere da parte le sue alleanze nella casa e nonostante la sua amicizia con Soleil.